Il vino sulle onde, oggi siamo in navigazione, una navigazione che ci porterà da Palme di Mallorca fino a Napoli. Abbiamo anche la possibilità quindi di assaggiare tanti vini, di nuovo i nostri vini che parteciperanno a questo festival sul mare. Il vino sulle onde naturalmente è proprio dedicato a loro. Insieme a noi abbiamo i giornalisti Franca Bertani, Liliana Savioli, Alessandra Di Tommaso, Luca Bonacini. Grandi vini quindi oggi iniziamo con l'azienda Frezza, poi ancora Liliana Savioli ci presenta Roncus, la Bus del Lof e lo Schioppettino di Prepotto e poi ancora Caputalbus in Campania con un aglianico meraviglioso, la Roncaia con un piccoli straordinario e Giovanni Montresor che presenta un Pinot Nero ancora più buono. Grazie. Grazie a tutti.